In mostra si trovano foto di prime comunioni, di cerimonie religiose, di funerali, ritratti, fototessere, tante foto del lago di Vedana, soprattutto tante scolaresche. A Sospirolo ancora oggi molti, quelli che hanno una certa età, si ricordano dell'Amalia come andava in giro a fare le fotografie. Andava in bicicletta, aveva una bicicletta verde e su questa bicicletta pesante naturalmente caricava il cavalletto e la macchina fotografica e girava, girava e si spingeva fino a Gosaldo.